Io sono stato all'inferno, sono stato deportato nel campo di Birkenau, a Auschwitz, Birkenau. Avevo più di 15 anni a novembre e io sono arrivato il 23 maggio, ma ero stato arrestato in Italia il 7 aprile, quindi quando sono stato arrestato avevo poco più di 15 anni, due campi così vicini, erano due campi completamente diversi. A fianco il Lager E, quello chiamato lo Zicoiner Lager, era un campo invece pieno di vita. Il campo degli Zingari. Allora, arriviamo così alla notte del 2 agosto del 1944. Fu una nottata veramente terribile. Quando arrivò la sveglia alle 4 e mezza e appena uscimmo dalle baracche, il primo pensiero fu quello di andare a dare uno sguardo dall'altra parte del filo spinato. Non c'era più nessuno. Pizzine, Andrei. Imco la Ugaz. Iozzainio Havazi. Pangi inando. Grazie a tutti.